Parte prima. I due sistemi. 1. I personaggi della storia. Per osservare la tua mente in modalità automatica, guarda l'immagine qui sotto. Figura 1.1. La tua esperienza mentre guardi il volto della donna si combina in maniera automatica con quelli che di norma chiamiamo visione e pensiero intuitivo. Con la stessa sicurezza e velocità con cui hai visto che la giovane donna ha i capelli neri, sai anche che è arrabbiata. Inoltre quello che hai visto si estende al futuro. Hai avuto la sensazione che la donna stesse per dire parole molto scortesi, magari a voce alta e con tono stridulo. Hai avuto in maniera istintiva e spontanea una premonizione di ciò che la donna avrebbe fatto. Non intendevi valutare il suo stato d'animo o prevedere che azione potesse compiere e reagendo alla foto non hai avuto la sensazione di fare qualcosa. Semplicemente la reazione si è verificata. È stato un esempio di pensiero veloce. Ora dà un'occhiata alla seguente operazione e osserva che cosa ti accade. 17 per 24. Capisci subito che è una moltiplicazione, probabilmente che sei in grado di risolverla se non proprio in memoria con carta e matita. Hai anche la vaga coscienza intuitiva della gamma di possibili risultati. Saresti pronto a riconoscere che sia 12.609, sia 123 sarebbero risultati poco plausibili. Senza dedicare un po' di tempo alla soluzione del problema, però, non sapresti dire con sicurezza che la risposta non è 568. Una soluzione precisa non ti è venuta in mente e ti sei chiesto se impegnarti o no nel calcolo. Se non l'hai ancora fatto, prova a risolvere la moltiplicazione adesso e a completarne almeno una parte. Hai sperimentato il pensiero lento procedendo lungo una sequenza di stadi. Prima di tutto hai recuperato dalla memoria il programma cognitivo della moltiplicazione che avevi imparato a scuola, quindi lo hai applicato. Eseguire il calcolo è stato uno sforzo. Hai sentito l'onere di conservare tutto quel materiale in memoria. Non dovevi perdere di vista il punto in cui eri e quello in cui stavi andando mentre ti tenevi stretto il risultato intermedio. Il processo è consistito in un lavoro mentale, un lavoro riflessivo, impegnativo e ordinato, il prototipo di pensiero lento. Il calcolo non era solo un evento mentale, ma vi era coinvolto anche il corpo. I muscoli si sono tesi, la pressione del sangue e la frequenza cardiaca sono aumentate. Chi ti avesse guardato attentamente negli occhi mentre affrontavi il problema avrebbe visto le tue pupille dilatarsi. Le pupille sono tornate alle dimensioni normali appena hai terminato il lavoro, ovvero appena hai trovato la risposta, che a proposito è 408, oppure quando hai rinunciato. I due sistemi. Per parecchi decenni gli psicologi si sono interessati attivamente alle due modalità di pensiero evocate dalla foto della donna arrabbiata e dal problema della moltiplicazione e hanno proposto molte espressioni per definirle. Io ho adottato termini coniati in origine dagli psicologi Kate Stanovic e Richard West e farò sempre riferimento a due sistemi mentali, l'1 e il 2. Sistema 1 opera in fretta e automaticamente con poco o nessuno sforzo e nessun senso di controllo volontario. Sistema 2. Indirizza l'attenzione verso le attività mentali impegnative che richiedono focalizzazione come i calcoli complessi. Le operazioni del sistema 2 sono molto spesso associate all'esperienza soggettive dell'azione, della scelta e della concentrazione. Le etichette di sistema 1 e sistema 2 sono ampiamente usate in psicologia, ma mi spingo al punto di dire che si può leggere questo saggio come uno psicodramma con due personaggi. Quando pensiamo a noi stessi ci identifichiamo con il sistema 2, il sé conscio e raziocinante che ha delle convinzioni, opera delle scelte e decide cosa pensare e cosa fare. Benché il sistema 2 creda di trovarsi dove si trova l'azione, è il sistema automatico 1 il protagonista del libro. Definisco il sistema 1 come impressioni e sensazioni che originano spontaneamente e sono le fonti principali delle convinzioni esplicite e delle scelte deliberate dal sistema 2. Le operazioni automatiche del sistema 1 generano modelli di idee sorprendentemente complessi, ma solo il sistema 2, più lento, è in grado di elaborare pensieri in una serie ordinate di stadi. Descriverò anche le circostanze in cui il sistema 2 prende il sopravvento, prevalendo sui liberi impulsi e le libere associazioni del sistema 1. Sarà invitato a considerare i due sistemi come agenti con proprie capacità, proprie limiti e proprie funzionalità vitali. In ordine approssimativo di complessità, ecco alcuni esempi delle attività automatiche che sono attribuite al sistema 1. Notare che un oggetto è più lontano di un altro, orientarsi verso la sorgente di un suono improvviso, completare la frase pane e fare la faccia disgustata davanti a un'immagine orribile, detestare il tono ostile di una voce, rispondere a 2 più due uguale, leggere parole su grandi cartelloni, guidare la macchina su una strada deserta, trovare la mossa decisiva in una partita a scacchi, se si è campione di scacchi, capire frasi semplici, riconoscere che un'anima mite e ordinata con una passione per il dettaglio somiglia a uno stereotipo professionale. Tutti questi eventi mentali hanno a che vedere con quanto evocato dalla foto della donna arrabbiata. Avvengono automaticamente e richiedono poco o nessuno sforzo. Le capacità del sistema 1 comprendono competenze innate che condividiamo con altri animali. Siamo nati con le capacità di percepire il mondo intorno a noi, riconoscere gli oggetti, orientare l'attenzione, evitare le perdite e temere i ragni. Altre attività mentali diventano veloci e automatiche attraverso una pratica prolungata. Il sistema 1 ha appreso le associazioni di idee. Qual è la capitale della Francia? E imparato competenze specifiche come leggere e capire le sfumature delle situazioni sociali. Alcune abilità, come trovare mosse scacchistiche decisive, sono acquisite solo da esperti specializzati, mentre altre sono ampiamente condivise. Trovare la somiglianza tra la sintetica descrizione di una personalità e uno stereotipo professionale richiede un'ampia conoscenza del linguaggio e della cultura che la maggior parte di noi possiede. La conoscenza è immagazzinata nella memoria e vi si accede senza intenzioni e senza sforzo. Molte delle azioni mentali dell'elenco sono del tutto involontarie. Non si può fare a meno di capire semplici frasi della propria lingua o di girarsi quando vi si avverte un suono forte e imprevisto. Ne ci si può impedire di sapere che 2 più 2 è uguale 4 o di pensare a Parigi quando viene menzionata la capitale della Francia. Altre attività come masticare sono soggette a controllo volontario ma di norma procedono in piloto automatico. Il controllo dell'attenzione è condiviso dai due sistemi. Orientarsi verso un suono forte è di norma un'operazione involontaria del sistema 1 che mobilita subito l'attenzione volontaria del sistema 2. Potremo anche trattenerci dal voltarci verso la fonte di un commento sonoro e offensivo fatto a un party affollato ma anche se la nostra testa non si muove la nostra attenzione almeno per poco è indirizzata verso il commento. Tuttavia siamo in grado di allontanare l'attenzione da un oggetto indesiderato soprattutto concentrandoci con forza su un altro bersaglio. Le operazioni assai disparate del sistema 2 hanno un caratteristica comune. Richiedono l'attenzione e sono annullate quando questa viene distolta. Ecco alcuni esempi. Prepararsi al colpo di pistola dello starter di una corsa. Concentrare l'attenzione sui clown del circo. Concentrarsi sulla voce di una particolare persone in una stanza affollata e rumorosa. Cercare una donna con i capelli bianchi. Frugare nella memoria per identificare un suono molto strano. Mantenere un passo più veloce di quello che ci riesce naturale. Controllare l'adeguatezza del nostro comportamento in una situazione sociale. Contare quante volte compare la lettera A in una pagina di testo. Dare a qualcuno il proprio numero di telefono. Parcheggiare in un spazio ristretto per la maggior parte delle persone tranne i garagisti. Confrontare il valore generale di due lavatrici. Compilare il modello della denuncia dei redditi. Controllare la validità di una complessa argomentazione logica. In tutte queste situazioni bisogna prestare attenzione e si ha un rendimento minore o nessun rendimento se non si è pronti o se l'attenzione non è ben indirizzata. Il sistema 2 ha in parte la capacità di modificare il funzionamento del sistema 1 programmando le funzioni di norma automatiche, dell'attenzione e della memoria. Quando aspettiamo un parente in una follata stazione ferroviaria, per esempio, possiamo decidere di cercare con gli occhi una donna dai capelli bianchi o un uomo con la barba e accrescere così la probabilità di individuare il parente da una certa distanza. Possiamo indurre la memoria a cercare delle capitali che comincino per n o dei romanzi esistenzialisti francesi e quando noleggiamo un'auto all'aeroporto di Heathrow, a Londra, il noleggiatore probabilmente ci ricorderà che in questo paese la circolazione è a sinistra. In tutti questi casi ci viene chiesto di fare qualcosa che non ci riesce spontaneo fare e scopriamo che attenerci costantemente alla serie di requisiti comporta uno sforzo continuo e di una certa entità. L'espressione spesso usata prestare attenzione è adatta al caso. Disponiamo di un budget limitato di attenzione che destiniamo a varie attività e se cerchiamo di superarlo falliamo. È una caratteristica delle attività impegnative interferire l'una con l'altra ed è per questo che è difficile o addirittura impossibile farne molte alla volta. Non si potrebbe mai calcolare il prodotto di 17x24 mentre si svolta a sinistra nel traffico intenso e non è certo raccomandabile farlo. Si possono compiere diverse azioni alla volta ma solo se sono facili e richiedono poco sforzo. Con tutta probabilità non si corrono rischi conversando con un passeggero mentre si guida l'auto su una strada deserta e molti genitori hanno scoperto, forse con un certo senso di colpa, che possono leggere una storia al figlio pensando a tutt'altro. Tutti abbiamo una certa consapevolezza delle capacità limitate dell'attenzione e il nostro comportamento sociale tiene conto di tali limiti. Quando per esempio il guidatore di un'auto supera un camion in una strada stretta i passeggeri adulti con molto buon senso smettono di parlare, sanno che distrarre il guidatore non è una buona idea, inoltre hanno il sospetto che durante il sorpasso egli sia temporaneamente sordo e che in ogni caso non li starebbe ad ascoltare. Concentrarsi intensamente su un compito rende in effetti la gente cieca anche agli stimoli che di norma attraggono l'attenzione. La dimostrazione più straordinaria del fenomeno è stata data da Christopher Chabris e Daniel Simons nel libro The Invisible Gorilla, Il Gorilla Invisibile. Essi girarono un breve filmato in cui due squadre di pallacanestro, una vestita di bianco e l'altra vestita di nero, si passavano la palla. Agli spettatori veniva detto di contare il numero di passaggi di palla fatti dalla squadra bianca ed ignorare i giocatori dalla maglietta nera. Il compito è difficile e assorbe totalmente l'attenzione. A metà filmato una donna attraversita da gorilla compariva in scena, attraversava il campo, si batteva le mani sul petto e usciva di scena. Il gorilla si vedeva per nove secondi. Molte migliaia di persone hanno visto il video e circa metà di loro non hanno notato niente di insolito. È il compito di contare soprattutto l'ordine di ignorare una delle due squadre a causare la cecità. A nessun spettatore capiterebbe di non vedere il gorilla se non gli fosse stato precedentemente assegnato un preciso compito da svolgere. Vedere e orientarsi sono funzioni automatiche del sistema 1, ma dipendono dal grado dell'attenzione che viene indirizzata verso lo stimolo del caso. Gli autori osservano come il dato più straordinario emerso dalla loro ricerca sia lo stupore con cui i soggetti ne hanno accolto i risultati. Gli spettatori che non vedono il gorilla all'inizio si dichiarano addirittura sicuri che esso non ci fosse. Non riescono a credere che sia sfuggito loro un evento così singolare. Lo studio del gorilla illustra due importanti fatti riguardanti la nostra mente. Siamo ciechi all'evidenza e siamo anche ciechi alla nostra stessa cecità. La trama in breve. L'interazione tra i due sistemi è un tema ricorrente del libro e presenterò un breve riassunto della trama. Nella storia che racconterò il sistema 1 e il sistema 2 sono entrambi attivi quando siamo svegli. Il primo funziona in maniera automatica, mentre il secondo è di norma in una comoda modalità di minimo sforzo in cui solo una piccola percentuale della sua capacità viene utilizzata. Il primo produce continuamente spunti per il secondo, impressioni, intuizioni, intenzioni e sensazioni. Se corroborate dal sistema 2, le impressioni e le intuizioni si trasformano in credenze e gli impulsi si convertono in azioni volontarie. Quando tutto procede liscio, come accade per la maggior parte del tempo, il sistema 2 adotta i suggerimenti del sistema 1 senza praticamente modificarli. In genere noi crediamo alle nostre impressioni e agiamo in base ai nostri desideri, il che di solito va benissimo. Quando il sistema 1 incontra qualche difficoltà si rivolge al sistema 2 perché procede a un'elaborazione dettagliata e specifica che risolva il problema contingente. Il sistema 2 viene mobilitato quando sorge un interrogativo cui il sistema 1 non sa rispondere, come ci accade con tutta probabilità quando ci troviamo di fronte all'operazione 17x24. Possiamo persino avvertire un'ondata di attenzione conscia ogni qualvolta veniamo sorpresi da qualcosa. Il sistema 2 si attiva appena viene rilevato un evento che viola il modello di mondo cui fa costante riferimento il sistema 1. In quel mondo le lampade non saltano, i gatti non abbaino e i gorilla non attraversano i campi di pallacanestro. L'esperimento del gorilla dimostra che occorre una certa attenzione perché si è individuato lo stimolo sorprendente. La sorpresa quindi attiva e orienta la nostra attenzione. Fissiamo il fenomeno sorprendente e cerchiamo nella memoria una storia che ne dia ragione. Si reputa inoltre che il sistema 2 controlli costantemente il nostro comportamento. È questo controllo che non ci fa travalicare i limiti dell'educazione quando siamo arrabbiati e che ci allerta quando guidiamo di notte. Quando si accorge che sta per essere commesso un errore, il sistema 2 è indotto a intensificare la propria attività. Ricorderai un momento della tua vita in cui stavi per lasciarti sfuggire un giudizio offensivo e hai compiuto uno sforzo considerevole per riprendere il controllo. In sostanza, la maggior parte di quello che noi, il nostro sistema 2, pensiamo e facciamo origina dal sistema 1, ma il sistema 2 prende il sopravvento quando le cose si fanno difficili e di norma all'ultima parola. La divisione del lavoro tra sistema 1 e sistema 2 è assai efficiente in quanto riduce al minimo lo sforzo e ottimizza il rendimento. Tale organizzazione funziona bene per la maggior parte del tempo perché in genere il sistema 1 sa fare molto bene il suo mestiere. I suoi modelli di situazioni note sono precisi, le sue predizioni a breve termine sono di solito esatte e le sue reazioni iniziali alle difficoltà sono rapide e per lo più appropriate. Esso è però soggetto a bias, a errori sistematici che tende a commettere in circostanze specifiche. Come vedremo, a volte risponde a domande più facili anziché a quella più difficile che gli è stata posta e a scarsa comprensione della logica e della statistica. Un suo ulteriore limite è che non lo si può spegnere. Se ci viene mostrato su uno schermo una parola in una lingua che conosciamo, la leggiamo, a meno che la nostra attenzione non sia concentrata su tutt'altro. Conflitto. La figura 1.2 è una variante di un classico esperimento che produce un conflitto tra i due sistemi. Prova a fare l'esercizio prima di proseguire nella lettura. figura 1.2. Prima cosa, scorri entrambe le colonne dicendo a voce alta se ciascuna parola è in caratteri minuscoli o maiuscoli. Quando hai eseguito questo compito, scorri di nuovo le due colonne e specifica se ciascun termine si trova a destra o a sinistra del centro, dicendo, o mormorando tra te e te, destra o sinistra. Sinistra, maiuscolo, sinistra, minuscolo, destra, minuscolo, destra, maiuscolo, sinistra, minuscolo, sinistra, minuscolo, destra, maiuscolo. Sarai quasi sicuramente riuscito in entrambi i compiti e avrai senza dubbio scoperto che alcune parti di ciascun compito sono molto più facili di altre. Quando hai identificato le parole maiuscole e minuscole, la colonna di sinistra ti sarà riuscita facile, mentre la colonna di destra ti avrà costretto a rallentare e forse balbettare o incespicare. Quando sei passato alla posizione delle parole, la colonna di sinistra ti sarà parsa difficile e quella di destra molto più facile. Questi compiti impegnano il sistema 2, perché dire maiuscolo, minuscolo o destra-sinistra non è ciò che di solito facciamo quando scorriamo una colonna di parole. Una delle cose che hai fatto per prepararti ai due compiti è stato programmare la memoria in maniera che le parole salienti, maiuscolo e minuscolo del primo, fossero sulla punta della lingua. Dare la precedenza alle parole del compito è abbastanza facile e si riesce a resistere alla lieve tentazione di leggere altre parole quando si scorre la prima colonna. Ma la seconda colonna è diversa, perché contiene proprio i termini salienti del compito e non possiamo ignorarli. Per lo più sarai riuscito a rispondere correttamente, ma lo sforzo di resistere alla risposta in conflitto con quella giusta ti ha rallentato. Hai sperimentato un conflitto tra un compito che intendevi eseguire e una risposta automatica che interferiva con esso. Il conflitto tra una reazione automatica e la volontà di controllarla si presenta spesso nella vita. Tutti quanti abbiamo provato la tentazione di fissare al ristorante la coppia vestita in maniera stravagante, al tavolo vicino al nostro. Sappiamo anche che cosa succede quando ci sforziamo di concentrare l'attenzione su un libro noioso. Torniamo sempre al punto in cui abbiamo smesso di seguire il senso delle frasi. Nei paesi in cui l'inverno è rigido, molti guidatori ricordano di aver sbandato sul ghiaccio e di aver dovuto fare uno sforzo per seguire le istruzioni apprese, che appaiono tanto in contrasto con quanto sarebbe stato spontaneo fare. Seguite con il volante la direzione dello slittamento e qualunque cosa facciate non toccate i freni. Inoltre tutti gli esseri umani rammentano la volta in cui non mandarono all'inferno qualcuno nonostante la forte tentazione di farlo. Uno dei compiti del sistema 2 è vincere gli impulsi del sistema 1. In altre parole, il sistema 2 è incaricato dell'autocontrollo. Illusioni Per comprendere l'autonomia del sistema 1, così come la distinzione tra impressioni e credenze, osserva attentamente la figura 1.3. L'immagine non ha niente di speciale, due segmenti orizzontali di lunghezza diversa, con due frecce chiuse verso l'interno e due frecce aperte verso l'esterno. La linea di sotto è chiaramente più lunga di quella di sopra. Questo è ciò che vediamo tutti e naturalmente crediamo a quello che vediamo. Se hai già visto altrove questa immagine però, riconoscerai in essa la famosa illusione di Müller-Layer. Come potrai facilmente verificare misurandoli con un righello, i due segmenti orizzontali sono in realtà della stessa lunghezza. Ora che hai misurato le linee 2, ovvero il tuo sistema 2, l'essere conscio che chiami io, hai una nuova credenza. Sai che sono della stessa lunghezza. Se ti si chiede quanto sono lunghe, dirai quello che sai. Eppure continuerai a vedere il segmento inferiore come più lungo. Hai scelto di credere alla misurazione, ma non può impedire al sistema 1 di fare quello che fa di norma. Non puoi decidere di vedere i segmenti come uguali, anche se sai che lo sono. Per combattere l'illusione puoi fare una sola cosa, imparare a non fidarti delle tue impressioni sulla lunghezza dei segmenti quando essi sono attaccati delle frecce. Per applicare tale regola, devi riuscire a riconoscere lo schema illusorio e ricordare quello che sai su di esso. Se lo farai, non sarai mai più ingannato dall'illusione di Müller-Layer, sebbene continuerai a vedere un segmento più lungo dell'altro. Non tutte le illusioni sono visive. Vi sono illusioni del pensiero, che chiamiamo illusioni cognitive. Quando ero all'università, seguì alcuni corsi sull'arte e la scienza della psicoterapia. Durante una di quelle lezioni, il nostro insegnante ci elargì un briciolo di saggezza clinica, quando ci disse, ogni tanto incontrerete un paziente che vi racconterà la storia inquietante dei molti errori compiuti dagli altri psicologi durante le precedenti terapie. Dirà di essere stato visto da svariati specialisti e che nessuno di loro ha saputo guarirlo. Descriverà lucidamente l'incapacità di comprenderlo di quei professionisti, ma aggiungerà di aver subito intuito che voi siete diversi. Voi condividete i suoi sentimenti, siete convinti di capirlo e riuscirete ad aiutarlo. A quel punto l'insegnante alzò la voce e disse non vi passi neanche per l'anticamera del cervello di accettare quel paziente, buttatelo fuori dello studio. Con tutta probabilità è uno psicopatico e non riuscirete ad aiutarlo. Molti anni dopo appresi che quel professore ci aveva messo in guardia dal fascino psicopatico e la massima autorità nello studio della psicopatologia ha confermato che il suo consiglio era stato giusto. L'analogia con l'illusione di Müller-Layer è forte. Il professore non ci insegnò quali sentimenti provare verso quel paziente. Dava per scontato che l'empatia che avremmo nutrito per lui non sarebbe stata sotto il nostro controllo, ma sarebbe stata generata dal sistema 1. Inoltre non ci esortò a considerare genericamente con sospetto i nostri sentimenti nei confronti dei pazienti. Ci disse solo che una forte attrazione per un paziente con una storia di ripetuti fallimenti clinici alle spalle è segnale di pericolo, come le frecce attaccate ai segmenti paralleli. È un'illusione, un'illusione cognitiva e al mio io, il sistema 2, fu insegnato a riconoscerla e consigliato di non crederci e non interagirvi. L'interrogativo che sorge più spesso davanti alle illusioni cognitive è se si possano vincere. Il messaggio trasmesso da questi esempi non è incoraggiante. Poiché il sistema 1 agisce automaticamente e non può essere disattivato a piacere, gli errori del pensiero intuitivo sono spesso difficili da prevenire. Non sempre si possono evitare i bias, perché il sistema 2, a volte, non ha alcun indizio dell'errore. Anche quando sono disponibili indizi di probabili errori, questi ultimi si possono prevenire solo con un controllo rafforzato e un'attività intensa del sistema 2. Nella vita quotidiana, però, la vigilanza continua non sempre positiva ed è senza dubbio poco pratica. Se mettessimo costantemente in discussione il nostro stesso pensiero, l'esistenza ci apparirebbe insopportabile e il sistema 2 è troppo lento e inefficiente per fungere da sostituto del sistema 1 nel prendere le decisioni di routine. Il meglio che possiamo fare è giungere a un compromesso, imparare a riconoscere le situazioni in cui è probabile si verificano errori e impegnarci maggiormente a evitare grossi sbagli quando la posta in gioco è alta. La premessa di questo libro è che è più facile riconoscere gli errori altrui che i propri. Finzioni utili. Ti ho invitato a considerare i due sistemi come agenti interni alla mente, con la loro personalità, le loro abilità e i loro limiti individuali. Spesso utilizzerò frasi in cui i sistemi sono soggetti proposizionali, come per esempio la seguente. Il sistema 2 calcola prodotti. L'uso di un simile linguaggio è considerato peccaminoso nelle cerchi di professionisti che mi trovo a frequentare, perché sembra spiegare i pensieri e le azioni di un uomo attraverso i pensieri e le azioni di un omuncolo che si trova dentro la sua testa. Dal punto di vista grammaticale, la frase sul sistema 2 è simile a il maggiordomo ruba dal fondo per le piccole spese. I miei colleghi osservano che l'azione del maggiordomo spiega davvero la scomparsa del fondo per le piccole spese e a ragione dubitano che la frase che ha per il soggetto il sistema 2 spieghi come sono calcolati i prodotti. La mia risposta è che quella breve frase attiva che attribuisce i calcoli al sistema 2 è intesa come descrizione, non come spiegazione. Ha un significato solo grazie a ciò che già sappiamo del sistema 2. È un modo sintetico di dire l'aritmetica mentale è un'attività volontaria che comporta uno sforzo, non dovrebbe essere eseguita mentre si svolta a sinistra con la macchina ed è associata a dilatazione delle pupille e accelerazione della frequenza cardiaca. Analogalmente, l'asserzione guidare per la strada in condizioni di routine competa il sistema 1 significa che sterzare per assecondare una curva è automatico e non richiede sforzi. Implica anche che un guidatore esperto è in grado di guidare su una strada deserta mentre conversa con qualcuno. Infine la frase il sistema 2 ha impedito a James di reagire stupidamente all'insulto significa che James avrebbe avuto una reazione più aggressiva se la sua capacità di autocontrollo fosse stata compromessa, se per esempio fosse stato ubriaco. Il sistema 1 e il sistema 2 sono talmente fondamentali nella storia che racconto in questo libro che devo assolutamente chiarire la loro natura di personaggi fittizi. Non sono sistemi nel classico senso di entità, alcuni aspetti e alcune parti delle quali interagiscono e non vi è nessuna parte del cervello che l'uno o l'altro sistema chiamerebbero casa. Potresti chiederti che senso ha introdurre dei personaggi fittizi con dei brutti nomi in un libro serio? La risposta è che questi personaggi sono utili per via di certe peculiarità della nostra mente, la tua come la mia. Una frase è più comprensibile se descrive che cosa fa un agente, il sistema 2, che se descrive che cosa è una certa cosa e quali proprietà possiede. In altre parole, come soggetto proposizionale, sistema 2 è decisamente migliore di aritmetica mentale. La mente, specie il sistema 1, sembra essere particolarmente portata a costruire e interpretare storie riguardanti agenti attivi e dotati di personalità, abitudini e capacità. Ti sei fatto subito una cattiva opinione del maggiordomo ladro, ti aspetti da lui altri comportamenti riprovevoli e te lo ricorderai per un po'. La mia speranza è che tu faccia altrettanto con il linguaggio dei sistemi. Perché chiamarli sistema 1 e sistema 2 invece di designarli con espressioni più descrittive come sistema automatico e sistema riflessivo? Il motivo è semplice, ci vuole più tempo a dire automatico che sistema 1 e quindi la prima espressione occupa più spazio nella nostra memoria di lavoro. È un particolare importante perché qualunque cosa occupi la memoria di lavoro riduce la nostra capacità di pensare. Fai finta che sistema 1 e sistema 2 siano due soprannomi come Bob e Joe e che identificano dei personaggi che finirai per conoscere nel corso del volume. I sistemi fittizi rendono più facile a me riflettere sul giudizio e scelta e a te capire quello che dico. A proposito del sistema 1 e del sistema 2. Ha avuto un'impressione ma alcune delle sue impressioni sono illusioni. È stata una tipica risposta dal sistema 1. Ha reagito alla minaccia prima ancora di rendersi conto che c'era. È il tuo sistema 1 che parla. Rallenta il pensiero e lascia che sia il sistema 2 ad assumere il controllo.